La stagione estiva volge ormai al termine, ma resta alta la vigilanza dei finanzieri del reparto operativo aeronavale di Civitavecchia presso le isole Pontine per garantire incessantemente un presidio di legalità a tutela della sicurezza pubblica in mare. I mezzi navali del reparto operativo aeronavale dal mese di giugno alternano la loro presenza nell'arcipelago. La vigilanza operativa svolta senza soluzione di continuità notte e giorno ha permesso di eseguire numerosi controlli di polizia finalizzati all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria e delle specifiche funzioni di polizia del mare. Negli ultimi giorni di controlli le fiamme gialle aeronavali di Civitavecchia a bordo del Guardacoste G104 a Pruzzi hanno sottoposto a controllo 26 imbarcazioni ed elevato un totale di 45 verbali, combinando circa 40.000 euro di sanzioni amministrative. Da segnalare l'individuazione di tre acquascooter che sfrecciavano pericolosamente a breve distanza dalla costa, tra bagnanti ed imbarcazioni ferme in rada. L'interruzione immediata di questo comportamento ha salvaguardato l'inconumità dei turisti coinvolti ed evitato condizioni di elevata pericolosità. Per i conduttori imprudenti ed indisciplinati sono state elevate sanzioni per un totale di circa 1.400 euro. Le informazioni raccolte durante i controlli in mare saranno oggetto di approfondite indagini con accertamenti con le banche dati in uso al corpo, a testimonianza della trasversalità dell'azione degli uomini del comparto aeronavale della Guardia di Finanza, rafforzando anche il ruolo di pulizia del mare assunto dal corpo.